ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale quanto tempo sono passati qualche mese cosa ha fatto claus in questi questi mesi ha fatto un po di cose si è rimesso sotto con la palestra abbiamo più o meno parlume di speranza nella questione lavoro dove forse riusciremo a non fare l'italiano medio che viene sottopagato e sfruttato come tunisino senza presa per i tunisini capite la gag e abbiamo messo a posto quindi un po di cose e abbiamo creato prospettive buone per il futuro ci siamo presi anche una pausa da guent perché purtroppo come voi sapete gli ultimi periodi in streaming non mi stavo proprio divertendo tantissimo perché il gioco tra golden neck ero p poi renfri stupida tutto quanto era diventato veramente poco 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 skill based aveva anche un pochino rotto il cazzo considerato che la uscita delle carte su guent è nulla perché escono una manciata di carte l'anno capite bene che se failano quelle carte dal punto di vista competitivo una persona che non ha troppo piacere a giocare di rng un pochino si sfrattaglia i coglioni insomma anche per quello avevo bisogno di staccare un attimino da guent adesso stiamo riprendendo e mi sono dedicato ad altre cose nel senso tipo se dovevo giochicchiare giocavamo magari a league of legend con gli altri del team di esc con lo zio coglioni insomma coglioni eccetera eccetera mentre invece in singolo mi sono dedicato a giocare a qualche mobile game e mi sono appassionato devo dire ci sono due o tre titoli che volevo anche portarvi sul canale anzi parentesi se mi lasciate nei commenti se l'idea vi può piacere di qualche video su mobile gaming e mi lasciate anche tra parentesi i giochi a cui giocate da mobile sono mi fatto un bel favore perché io ne ho provati tantissimi ho provato anche sto famoso ride shadow legend a cui giocano lo zio roma gli altri devo dire la verità non mi ha appassionato molto il gioco di per sé il genere invece mi sta piacendo infatti ci sono altri due o tre titoli a cui io sto assiduamente giocando da mobile molto molto carini che vi porterò tra cui uno e sui cavalieri dello zodiaco che era il mio cartone preferito quando ero piccolo e il gioco devo dire la verità è fatto molto bene perché diversamente per esempio da ride shadow legend da titoli simili ha il pvp in tempo reale e quindi è molto figo cioè per me che piace il pvp insomma molto molto figo poi ne sto provando altri poi lasciatemi nei commenti a cosa giocate voi che magari riusciamo a incastrare le cose e faremo anche un po' di pubblicità a quei giochi lì appunto a cui sto giocando perché magari un appuntamento infrasettimanale dedicato al mobile gaming perché no va tanto di moda in sto periodo e magari mi aiuta a fare qualche views in più detto questo i cambiaguenti ultimamente ci sono stati c'è stato il rework di Nilfgaard meno pacchetto soldati insomma e c'è stato il nerfarenfree c'è stato insomma il downgrade del golden necker in generale quindi il gioco è tornato giocabile io avevo veramente bisogno di prendermi una pausa da guent per qualche tempo e devo dire la verità ho trovato un po' di freschezza non tanto nelle carte nuove perché non esistono le carte nuove e come vi ho già detto escono una manciata di carte l'anno quindi aspettarsi novità è sempre più difficile però sembra quasi una patch di balancing vivibile rispetto all'average degli ultimi sei mesi detto questo mi ha portato per tornare diciamo per inaugurare il ritorno delle guide sul canale un mazzo che tendenzialmente non penso di avermi mai portato neanche quando era rotto che è il pre-ass combo sappiamo tutti come funziona chi non lo sa lo spieghiamo velocemente nonostante i nerf questo è comunque un mazzo piuttosto buono prima questa roba qui intanto leggiamo la velo schieramento aggiunge una le proprie cariche parte da zero quindi già parte da uno uno schieramento ogni volta che questa unità viene rimessa nel tuo mazzo le sue cariche aumentano di due quindi funziona anche se la mettete nel mazzo 18 volte in un turno con ordine che potenzia di uno un'unità alleata quindi tendenzialmente avremo una dozzina minimo di cariche di buff che raddoppiano la loro value se combatte come accadrà sempre con un try in a fanteria ok cosa è cambiato rispetto a prima prima aveva sempre zeal e dava tre cariche adesso è l'ombra di quello che era prima perché le cariche sono due non tre e per avere zeal deve essere ispirata quindi deve essere buffata è ancora worth da giocare? assolutamente sì perché il meta si è evoluto non più come era qualche tempo fa ma si è evoluto per la stramaggioranza in o ti puscio forte round 2 o punto a round 3 corto in generale la last 6 è diventata dico fondamentale sempre ma nel 80% dei casi la last 6 ti fa vincere la partita quindi a noi avere tutte queste tempo play combatte al teaming di round 1 non ci dispiace per niente non ci dispiace per niente e non sono piccole perché in una delle partite mi sembra che era un truscoietel probabilmente ho cercato un tizio che ha giocato full leader Saskia e full engine round 1 e comunque noi in round 1 ce lo siamo portati a casa ok poi l'avversario era una specie di scimmia non lo so tipo di quelle che si cagano addosso col pannolino però parte l'avversario che era un deforme del cazzo il mazzo comunque ha performato bene perché noi al contrario suo sappiamo contare le tag conosciamo le liste insomma anche se tornando da poco su Gwent comunque c'è un po' così però comunque le conosciamo e e sappiamo giocare il mazzo meglio di quello che lo sta giocando quindi l'abbiamo un po' outplayato ma al di là dell'outplay di per sé il mazzo si è comportato bene lo vedrete lo vedrete comunque nella partita che arriva dopo ora la seconda partita mi sembra che sia contro il sindacato Poison vabbè ma nel senso basta un matchup non eccessivamente difficile con la moneta giusta di blu diventa un po' detto questo guardiamo la lista dicevamo le prieste sono ancora worth da giocare e sì nonostante il nerf proprio per i motivi che vi ho detto per lo shifting del meta se non c'è più la similette di Nilfgaard che punta a round lungo o ti può battere a even perché tanto ti pull sicuramente ci sono più mazzi tempo rispetto a una volta ma proprio perché sono mazzi tempo riusciamo a tenerli ok parliamo velocemente allora il leader lo conosciamo tutti sinergia infinita con le priestes e non solo come facciamo noi a dare allora questa ispirazione a queste cazzo di priestes che vogliono così tanta attenzione allora noi per baffarle prima del round 3 o a round 3 ma 90 su 100 prima abbiamo il metodo principale è evocare istred e combare due cariche di leader per fare dentro fuori con le priestes così vengono baffate dall'effetto di istred metodo alternativo può essere giocare tris farfalle su una priestes baffiamo tutto su una se non abbiamo altri metodi di buff ma comunque c'è sempre proprio bisogna arrivare a non vedere ma istred che comunque tra pergamena e cariche di leader insomma già dovremmo fare sempre comunque qualora ci fosse bisogno di un secondo buff d'emergenza c'è tris farfalle e proprio ai limiti dell'emergenza pulsante rosso nucleare c'è l'out di renfri che sapete quello che dice quando metti in gioco una carta con forza pari per ogni cosa dispari si buff quella merdata lì lo possiamo usare non ci arriveremo mai ad aver bisogno di quella ma lì ma esiste anche quello quindi è giusto dirlo siamo appunto un mazzo renfri quindi diciamo pergamena è ottima perché non abbiamo solo le priestes da prendere ma possiamo prendere a round 1 se ci manca istred radovid se ci manca tris possiamo rimettere dentro rutilia brachetto queste cagate qua prendere fiocco di neve insomma con la pergamena abbiamo una duttilità di target pressoché infinite abbiamo infinite tempo play abbiamo anche il viandante che tendenzialmente lo vorremmo usare a round 2 ma un po' sti cazzi il mazzo è tunato per arrivare ad avere due carte left nel mazzo all'inizio round 3 per combare il nostro vernon rush come last 6 sulle due priestes o priestes più tridam insomma e così via quindi non vi preoccupate di pescare troppo perché il mazzo è tunato per pescare in questo modo sono esattamente il numero di pescate tinate giuste per arrivare in quella situazione lì quindi questa la potete usare per i punti nel round che vi va ok e sinergizza bene con fiocco l'unica cosa che dovete stare attenti con sto mazzo è quando utilizzate le cariche di leader al di fuori del buff delle priestes quelle che vi avanzano dopo durante radovid non cagatele via a caso perché è un mazzo che pesca tanto capiterà la partita dove vi arriva Bracchetto quando non deve capiterà la partita dove vi arriva Hubert Reik quando non deve quindi sia Triss che le cariche vanno tirate al momento giusto anche solo per rimettere dentro i tinner che si sono obbriccati ok perché non abbiamo anche per tinnare pensate quanto roba abbiamo ma abbiamo quattro cariche di leader corre radovid che non vi sto a spiegare perché c'è radovid devo dire un mazzo è il genere due cariche in più fanno più che bene nel senso non c'è bisogno di un insomma intelletto eccelso abbiamo il viandante che pesca Rutilia che tinn Triss che pesca pesca vabbè Triss che sfoltisce Vernon Roche come finisher Hubert che si tinna Bracchetto che si tinna Fiocco che pesca Istred che pesca e che vaffa banda di Renfrey che tinnano Maxis ci gestisce le pescate le Siege bronzo con i due tinner dei mastro d'assedio insomma come vedete peschiamo una quantità industriale questo mazzo ovviamente come avete visto velocemente dallo scorrere della lista pecca un pochino i tool di controllo perché i tool di controllo più o meno ve li dovete arrangiare col blocco le Siege le cazzate comunque non ci serve avere tutto sto tool di controllo perché facciamo talmente tanti punti che anche per le engine avversarie diventa tedioso starci dietro sempre una partita con Scoiter è un esempio che quel tizio ha tirato sua madre Saskia leader tutto anche sua zia è arrivata una certa comunque detto questo a prescindere da tutto come vedete è tutta roba che tinna e pesca quindi non c'ha bisogno di attenzioni particolari la spiegazione della lista è però giusto dirvi che bisogna porre delle attenzioni come vi ho spiegato il baffa priestess cioè il modo di baffare le priestess sappiate anche che è facile anche briccarli i thinner quindi vi ripeto ancora una volta state attenti alle cariche di leader per rimettere dentro le cose altra cosa fiocco comba molto bene con istred quando è in campo e viceversa perché noi possiamo fare fiocco rimettere dentro i bricche bla 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 e poi andare a usare istred e quindi baffare fiocco fiocco viene baffata anche da viandante e da tutte le altre cose che pescano sfruttate bene le siege e le cariche di leader per fare uscire subito Hubert Reich è importante perché è un diciamo una Eliren a chiamata diciamo così e il blocco è uno non vi dico di non avere paura di buttarlo perché per carità di dio però usatelo con furbizia esempio cretino siamo contro un mazzo che ne so un mazzo con Anselt ok bene o lo usiamo su Anselt o sulla casa di Foltest eventualmente qualche siege importante che ci può andare a uccidere che ne so fiocco così però non tiratelo sulla prima carretta che vi mette in campo è comunque uno teniamo in considerazione l'importanza di quel blocco aiutatevi con leader per settarvi il drappello sulla torre d'assedio esattamente come per il blocco il Purify va ponderato cioè non ci pensate neanche a purificarvi una una torre d'assedio se siete contro Nilfgaard cioè tenetevi il Purify per qualcosa che vi serve cioè se vi blocca fiocco allora sì ha senso perché magari voi state per attivare Istredd insomma quei punti sulle pescate fanno però se voi avete fiocco e Istredd e dopo fiocco lui vi blocca cioè lui vi blocca Istredd è meglio sbloccare Istredd che fiocco ok perché è importante arrivare a fare quelle draw quelle quel sistemarsi la mano capito è tutta una questione di scelte perché poi le tempo play le imparate nel giro di 3-4 partite al massimo ok l'importante è che il decision making di questo deck non fate cazzate perché questo questo mazzo è tanto forte quanto delicato cioè è un mazzo fatto di vetro molto bello molto forte ma se vi cade non lo potete raccogliere perché si frantuma quindi la prima cagata che fate cadete per terra ok come il bicchiere perfetto e non vi rialzate ovviamente il teaming è tanto come vi ho già detto quindi che dire ho visto qualcuno che giocava a Dandelion in sto mazzo sinceramente mi sembra un po' un overkill non è una brutta carta ok di per sé non è una brutta carta la giocano al posto di 3 sfarfalle sono scelte allora Dandelion ci regala qualche punto in più perché ci possiamo buffare le 1 i mastri d'assedio ci possiamo buffare direttamente le priestess tutto quello che vi pare è un target in più da bloccare però 3 sfarfalle ci prende magari Renfri in una partita dove ci serve attivare Renfri per non farci fare 2-0 e Dandelion è solo una gridiness in più quindi nella partita perfetta ideale e facile Dandelion sicuramente fa qualcosa in più nelle tutte le altre 8 su 10 probabilmente è meglio Triss però è giusto comunque farvelo presente questo Dandelion non sta minchiata ora non penso ci sia troppo da aggiungere su questo deck più o meno un mazzo che conosciamo io vi consiglio di guardarvi le partite e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate ricordate di commentare con hashtag gaccia o hashtag mobile e il gioco a cui giocate che dire ragazzuoli questa è la la prima del ritorno a fare guide io spero che insomma il mazzo sia di vostro gradimento io mi sto obiettivamente divertendo e devo dire la verità sono partito pensando che fosse una minchiata e invece le sto vincendo tutte perché sto mazzo è tumoralissimo quindi che dire buona settimana a tutti buona serata fatti bravi ci vediamo presto in streaming state aggiornati sulla pagina facebook e su telegram per le news schifosi bella ah metto di essere di blu contro sto schifo un po' mi rompe il cazzo perché se questo mi parte incazzato nero di Saskia diventa un disastro starci dietro o meglio starci dietro ci stiamo dietro non con sta mano ma era la stessa un po' così non so se riusciamo a prendercela comunque troppe minchiate sono quelle belle 1 prelibazzi si poteva fare meglio sicuramente qua andiamo dritti a cazzo duro un po' per forza oddio non la potremmo anche settare che senza le 1 ma cioè si ho questa per dopo vabbò potrei fare questa in tour la dovido però che un mi dispiace mo ho detta de porta sega mettiamo questa mi importa sega come direbbero di amore eh allora peccassi un qualche pezzo ah vabbè qualche pezzo di stronzo che non gioca il pacchetto movement uno lo gioco i witcher quelli da 5 solo io lo gioco i witcher da 5 invece copino il culo proprio che è una bellezza o quei cosi comunque non dovrebbe giocare la bomba che sposta mi incazzo anche se gioca però faremo finta di niente lo mettiamo comunque qui poi ci prendiamo in mano questa cagata rimettendo nel mazzo questa cagata attiviamo questo bel leader merdoso così le baffiamo subito onde evitare cose strane e o radovid poco profeque quindi prendiamo l'altra dai la cera togli la cera la famocca ok la parte se mi molesta il cazzo l'abbiamo risolta adesso se per ignoti del tutto misteriosi ma sicuramente non è possibile ma beh allora la cosa positiva è che lui prende un botto meno value da ste cose no cosa negativa è che mi ha già fracassato il cazzo proprio detto fra noi quindi questa adesso invece che sparare 4 spara 4 5 6 quindi mi piace pensare che sto cazzo qui non muoia ma tutto può essere e lui avrà Andriate che spara 2 e altra carica di leader tua madre che però che però è una certa tipo instant to leader un po' ci va bene nel senso si 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 ti fa dire che però rimane lì vabbè che finita anche le cariche direi me ne sbattacchi un po' il cazzo comunque ce l'hai veramente tu sei proprio un cazzo di fenomeno minchia vorrei essere tuo padre per essere fiero di un figlio così stronzo ma non siamo noi i diretti interessati perciò dove cazzo è tiriamo questa più o meno si in qualche modo la dobbiamo vincere questo è uno sono proprio qua dietro vattali in fondo al mazzo tu che già sei un disastro vabbè vabbè in qualche modo tempo play ne avviamo più o meno certo non vedo Saskia il che mi fa ben sperare per il proseguo di questa partita però Saskia a pezzi nel senso Saskia a pezzi quasi l'accettiamo un po' quasi perché un pochino mi è cagato il cazzo però però un po' meno un po' meno possibilità di pescare quelle fucking cristo di uno non esiste al mondo perché sennò è troppo easy che cazzo di leader schifoso mi viene fuori da sta merda forse ce la peschiamo sai e ce ne sbattacchiamo il cazzo che magari una leader charge la pesco e se no perché solo me si infonde vabbè teniamo la leader charge tanto entrare devi entrare senti vai che c'è vattano affanculo entra eh meno male che conosco i miei polli merdo ah pure beh del resto insomma a sti prezzi dirai tu che cazzo me ne frega a me giustamente va bene a sti punti facciamo così mettiamo questa qui vediamo di mettere un po' di come si dice un po' di sprint questa mano merdosa prendiamo questa e tiriamo via questa tu ovviamente potevi andare davanti o dietro se hai deciso di avere la mamma trovo vabbè che tanto non ha trappello importante questo va bene egregissimo testina di cazzo sarebbe molto bello non dover usare Saskia cioè Renfri sto turno per vincere ma invece la usiamo sì ecco allora lui adesso prende uno più la summon di Saskia che in realtà i nani ce li ha l'edriadi ce l'ha l'elfo ce l'ha la bestia ce l'ha la macchina da cazzo guerra ce l'hai l'umano ce l'hai cosa cazzo ti entra non ti entra niente quindi volesse il signore perdiamo perché comunque questo mi fa una canica 150 punti questo testina di minchia quando passo ora me la figlio al culo me la figlio al culo me la prendo me la prendo al culo devo passare forza dai non entra niente facciamola finita su c'hai anche l'umana ma pensa che disperato mostro che che cosa da dove quale orifizio sbagliato puoi essere uscito tu mio dio che schifo questa è guenta adesso come ti è venuto in mente di passare con tutte le tag per terra io vorrei sapere ma come ti è venuto in mente io io sorrenderei perché fai schifo cioè al posto tuo mi farei schifo e sorrenderei perché fai veramente rigurgito cazzo non proprio le droghe volevamo comunque questa è in fondo quindi abbiamo la possibilità di prendere magari una di queste merdazze o questa anche se va di scenario perché diciamocelo perché non dovresti andare di scenario eh figlione di troia eh bravone sì 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 essere un bravo a questo gioco se tiro le carte che costano 13 ho fatto cose fantastiche faccia di merda comunque eh mettiamo questa roba qui ci prendiamo direi a questo punto ah giusto bisogna prima di mettere dentro roba eh vabbè ovviamente questa prendiamo questo eh non so se far uscire iber prima del tempo ma onestamente devo accorciare round l'asta 6 ce l'ho perché ce l'ha gentilmente offerta la chicco qua quindi la chicco bambini speciali eh quindi dovrei essere preoccupato eccessivamente certo bravo bravo tu veramente molto forte tu e i genitori hanno anche figli normali o sono tutti mostri come te no perché giusto per sapere qua facciamo uscire quella 5 ammertosa dal mazzo perché sennò è cazzo di casino quando noi pesca eh noi gioca questa potente carta perché poi questa la usa su gnomo merdoso proprio questo gnomo merdoso non lo specifica che poi adesso arriva il camaleonte non so neanche quanto sia troppo ward in realtà fa sta cagata qui però insomma pensa un po' eh che mammina puttana che ti ritrovi comunque mmm allora facciamo così blocchiamo il los gnomos camaleonte ce la pensiamo dopo intanto abbiamo vinto a even quindi un po' ce ne fotte un po' no del camaleonte vogliamo prendere simlas cazzo sono una simlas e grigio twistina di cazzo questa te la tiro questa è buona è più buona ora che dopo questa invece è buona anche dopo in realtà forse facciamo questa che la usiamo dopo dieci non l'abbiamo trovato perché dio ci vuol bene però un po' sti cazzi ha una certa come direbbe il saggio a noi non ce ne frega un faggio di quello che fai tirami sto simlas pezzettino di merda dai sono una simlas maleducato e oh che dir si voglia pezzettino di merda allora in realtà noi potremmo andare avanti giocando questa ma se noi dovessimo giocare questa vuol dire che poi se lui c'è un'altra bronzaccia merdosa quello che io mi aspetto è simlas sbriccato in mano che c'è un raccolto o simlas è raccolto o raccolto e basta però visto che a noi del suo fagiano merdoso non ce ne frega niente e lui ha corati da tirare su questa in singola coppia facciamo così e come direbbe baglioni e noi ci si leva dai coglioni via fagiano fagiano io non ti temo fagiano fagiano pazza che sfiga comunque porco cane tocca far così per aumentare le cariche perché non abbiamo pescata una di mano vacca merda erano le ultime due schifose buttane comunque comunque non è un problema è un problema un paio di coglioni però comunque meno 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 di altri perché abbiamo comunque la pergamena da tirare davanti insomma magari troviamo un'altra pergamena perché siamo davvero molto bravi e quindi ecco questa non è una pergamena ma non ce ne frega un cazzo noi mettiamo queste torrette merdose quanto inutili e poi inutili insomma ululare avvocato è quella che diceva è drogati adesso avvocato lei ha fatto uso di sostanze stupefacenti è adesso sostanze stupefacenti abbiamo ululato comunque questa è una citazione solo per i colti se c'hai l'alberello il gufo e simlas punti innegabilmente ne hai perché innegabilmente punti ne hai però che tagge fa comba scusa via eh piango pure io non solo lui porco salice eh vabbè adesso farà il gufo così può fare canicola su sta 4 no simlas quindi l'ultimo è il gufo non è la corati o mi piace pensare che non sia la corati se gentilmente non mi ammazzi quella 4 comunque così rimaniamo amici e smetto di insultare tua madre più di due volte al minuto che comunque è un bel upgrade voglio dire aspetta la media solida e bene e questa quante cazzo di carica 7 vabbè ma noi facciamo pergamena pigliamo un altro di questi e la corati della ficchina il culo funziona più o meno così eh si tutto bello se non me l'ammazzi adesso diventa un po' un po' una menata di cazzo diciamo c'era un po' fra me due non sono quattro gran cosa mi sembra giusto sì tiriamo questa a caso perché è bello tirarlo a caso per la pergamena altra pergamena perché siamo notevolmente più forti dell'avversario questa sono 6 esattamente come la pergamena ma noi siamo comunque dei pezzettini di merda e quindi faremo così non tazzardare le varie cose allora facciamo così poi mi scordo scelgo una carta da pescare peschiamo prima questa e mettiamo dentro questa poi tiriamo l'altra pergamena peschiamo questa e mettiamo dentro questa tiriamo giù questa bella merda tirati il tuo buffino da 20 punti 18 16 quanto cazzo ce l'hai grosso quella roba lì sono proprio tanti porca pupazza ma non abbastanza tanti manco per il cazzo voilà voilà ponci ponci po 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 pu 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 ru pu fa male il dito già però ammetto che mi fa male il dito pensate che scade il tempo prima che finisco di fare sta minchiata ah 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 sei una mezz'oretta ecco grazie no risparmiamo tempo tutti ricaricarsi con energia verde eh questa ha varie varie interpretazioni questa frase che noi però per dovere di canale che non viene chiuso non diremo e quindi ads sasca round 1 23 angel round 1 full leader round 1 hai preso il cazzo uguale eh sì grazie a tutti